Nessun movimento diverso o particolare in seno alla giunta comunale, tutto resta tale quale prima della crisi di maggioranza che ha investito il comune dell'Aquila. Il centrodestra si dichiara nuovamente unito, anzi fa di più, rilancia la candidatura di Biondi per le amministrative del 2022 e lo si evince chiaramente dalla nota stampa diffusa dai coordinatori regionali del centrodestra. Due righe di comunicato hanno invece annunciato ieri il reintegro in giunta dei tre assessori leghisti defenestrati dal sindaco Perluigi Biondi dopo una crisi durata ben 13 mesi, che per il primo cittadino non ha paralizzato però l'attività amministrativa, per l'opposizione ovviamente sì. Il sindaco non ha fatto commenti, si è limitato ad annunciare la firma del decreto che rimette al suo posto Fabrizio Taranta all'ambiente, Fabrizio Aquilio al turismo e Daniele Ferella all'urbanistica. Nessun cambiamento ed è salvo anche l'assessorato di Vittorio Fabrizia alle opere pubbliche, di cui si era parlato paventando una sostituzione che avrebbe fatto male ad un'attività e ad un tecnico che piace a destra e a sinistra per le sue capacità. Ma tutto a un prezzo potrebbe essere la guida dell'SM, la municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico locale. A breve scade il mandato del leghista Gianmarco Berardi, a suo posto potrebbe andare una persona in quota Fratelli d'Italia, potrebbe essere un tecnico vicino all'assessore regionale Guido Liris. Il confronto tra il Carroccio e Biondi è stato durissimo in questi mesi, con continui botte e risposta. Alla fine il partito del coordinatore Luigi Deramo ha pure firmato un documento in cui si riconosce la qualità amministrativa targata a Biondi degli ultimi tre anni. Nel documento diffuso a fine crisi coordinatori regionali dei partiti fanno quadrato attorno alla figura del sindaco, essi dicono uniti. La crisi in comune è durata più di un anno, iniziata col mancato voto del partito al bilancio di previsione, culminata il 14 luglio scorso quando in Consiglio Comunale il capogruppo Francesco De Santis dichiarò di vergognarsi dell'azione amministrativa. Ora tutto cambia per non cambiare nulla e l'opposizione è molto critica. Il consigliere Lelio De Santis si chiede che senso abbia tutto questo e sostiene che l'attività del comune ha risentito molto della crisi.